ciao raga è da un sacco di tempo che non faccio più video cosa ragazzi sono cose hanno messo bene grazie dopo registro anche raga io mi sto rompendo è una cosa nuova ho sbloccato grazie per le geme ho sbloccato sto gadget mi servirà un botto raga vai sta facendo stelva solitario vabbò raga singolo sappiamo tutti colt di grado 18 raga mi sono allenato un botto e sto gadget finalmente il mio amico te killer questo è l'account pro guardate guarda allora ryan uno di sfida uno con con co e te colette con colette e invece victor non mi chiamo ryan mi chiamo victor ok victor uno con colette ok devo mangiare ciao 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 anche già anche già anche già anche già anche già anche già la testa perché ha bisogno di disturbare secondo me sta facendo qualche bai salito beh guardate voi perché c'è anche iniziamo guardate non posso osservarmi vabbè chi è? vabbò iniziamo guarda di metterlo qui perché c'è ok due minuti di registrazione ok è time for trouble time for trouble anche quante mi la cavo cavolo 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 ok allora qua anche vedete ma scusa potevo morire eh se arrivo nel primo raga mi ucciso adesso è che mi richiede adesso è che mi richiede io uso le casse come barriera se lo volete saperlo è un'ottima strategia usarle come barriere ora è un accesso c'è non è il primo abbiamo perso raga sto qua di velo sotto penso no lui ha po' power up di me e ho finito il mio gadget no raga cosa c'è? no è tornato bravo time for trouble time for trouble dai sui dai mi 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 no frank raga frank 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 non c'è no no ok grazie frank no shit questa è la canzone di frank ma che cavolo c'è un frank allora continuiamo continuiamo c'è colt 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 non c'è niente questa è la season ricordiamoci che è la season di belle e si può spuccare belle con 32 coppe non c'è 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 è ritornata stella solitaria ma spero che rimettono di nuovo perché torneo è più bello no meglio sulla stella solitaria guarda perché? meglio del torneo ma torneo è più forte grazie carlo no ragazzi sono tutto andato carlo raga carlo e io ho 10 power ups carlo è sempre qui e sempre ok finalmente ce l'ho fatto raga cioè non ce ne ho fruttito più grazie rickle grazie a tutti 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 grazie a tutti